Dunque, vediamo brevemente l'articolo 216 del codice stradale, ossia quella sanzione accessoria che si definisce ritiro dei documenti di guida. Documenti in senso lato, nel senso che si intende, lo vediamo da questa slide, la carta di circolazione, certificati di donità tecnica, autorizzazioni, licenze, la targa, la patente di guida e il CQC, cioè la carta di qualificazione del conducente. Tutte queste varie cose possono essere oggetto di ritiro per svariate ragioni che non vedremo qui, ma che potete trovare in ogni prontuario al codice della strada. Spesso vi potrà capitare di vedere come sanzione accessoria esplicitato il ritiro dei documenti, di determinati documenti. Da non confondersi con quelle situazioni nelle quali, per esempio, se parliamo della carta di circolazione, essa viene trattenuta dall'organo accertatore. Faccio un esempio. Quando si applica una sanzione, per esempio, di fermo amministrativo o di sequestro amministrativo, la carta di circolazione è ritirata al momento del fermo e del sequestro, ma la sanzione accessoria non è il ritiro della carta di circolazione, bensì, per esempio, il fermo. Quindi, nel caso di un fermo amministrativo, è vero che la carta viene fisicamente ritirata, ma non si parla dell'articolo 216, si parla del 214 in questo caso, quindi del fermo, e la carta viene trattenuta dall'organo accertatore. Mentre, nei casi in cui è il ritiro ad essere la vera e propria sanzione accessoria, questa seguirà un altro iter che è descritto dall'articolo 216. Vari casi possono essere, ve ne prendo giusto un paio che non ho segnato nelle slide, giusto per capirci, se prendete il prontuario del codice della strada, per esempio l'articolo 78,34 presenta un caso in cui si circola con un veicolo, con un telaio parzialmente o totalmente modificato, che non abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, quindi che non è omologato. In quel caso, dato che il telaio è parzialmente o totalmente modificato, si parla della sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione. Oppure può essere ritirata per altre situazioni, un'autorizzazione o una licenza di, per esempio, noleggio con conducente, piuttosto che altre, a seconda quindi della violazione. Ho voluto specificare quella cosa sulla carta di circolazione perché appunto può trarre in inganno, dal punto di vista operativo, quello che vediamo nella prossima slide. Dicevamo, il ritiro avviene al momento della violazione e viene ritirato dall'organo accertatore il documento, che sia uno di quelli che abbiamo visto prima. Entro cinque giorni, se la sanzione è questa, quindi il 216, si deve inviare il documento ritirato al DTT, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, per tutti quei documenti che abbiamo visto nella slide precedente, oppure, nel caso della patente, alla prefettura, che è di sua competenza. È possibile naturalmente presentare ricorso o posizione, lo si fa direttamente al verbale di accertamento della violazione e questo ricorso viene esteso alla sanzione accessoria, cioè quella del ritiro. Attenzione che condurre un veicolo senza questo documento di circolazione che è stato ritirato comporta una sanzione dai 2.000 agli 8.000 euro circa e il fermo amministrativo per tre mesi. La reiterazione comporta la confisca. Inoltre, ricordiamoci che dato che si parla di un fermo amministrativo, condurre un veicolo, quindi reiterare questa violazione, anche se non l'ho messo nella slide, si va incontro alla revoca della patente perché si sta conducendo un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Dunque possiamo proseguire con i prossimi articoli ricordandoci le distinzioni di cui abbiamo parlato, quindi tra il ritiro dei documenti come sanzione accessoria e invece il fatto che questi documenti vengano trattenuti per determinate ragioni che non sono relative alla sanzione accessoria del ritiro ma che sono conseguenti ad altre sanzioni accessorie.